Allora abbiamo appena avuto un trevigiano, adesso passiamo da un trevigiano doc a un veneziano doc e so che ci tiene tantissimo a questa cosa, un elemento identitario, la provenienza di ciascuno di noi che nonostante la fluidità del tempo che stiamo vivendo sembra ancora costituire qualcosa di grande valore personale, di comunità, dopodiché io che sono una veneziana che viveva quasi 30 anni a Treviso faccio un po' confusione identitaria perché è più quello che ho vissuto qua che quello che ho vissuto là, quindi è un po' difficile. Lui si chiama Francesco Penzo, Penzo proprio come il nome dello stadio di calcio della città di Venezia, quindi è proprio identitario anche il cognome, è un ingegnere elettronico che nel 2026 e dopo alcune esperienze anche nel campo dell'ingegneria ambientale e della telefonia mobile è approdato a Generali, qualcuno sa che cos'è Generali? Certo, dove lavora nel marketing strategico ma da quest'anno fa parte del team di Generali che si occupa di sostenibilità, di responsabilità sociale ed impresa. Prendete appunti perché ho visto che stanno prendendo appunti, sono molto bravi, non sanno che cosa li aspetta e proprio per questo dopo a scuola sono molto previdenti, molto bravi questi ragazzi. Bene, buongiorno a tutte e tutti anche da parte mia, come state? È sostenibile che non vi hanno fatto fare la ricreazione? Non tanto. Allora io ho pensato un intervento, avevo pensato un intervento un po' diverso da quello che di solito sono chiamato a fare i rappresentanti dei Generali, appunto non sono un imprenditore, sono un dipendente di questa azienda, poi vi dirò due parole su come è fatta Generali. Ho pensato un intervento un po' diverso perché siamo in un festival che parla di parole e quindi quello che il modo in cui vorrevo raccontarvi come io ho approcciato e come Generali cerca di approcciare il tema della sostenibilità lo vorrei fare attraverso un viaggio, una passeggiata attorno a alcune parole. Quindi, devo girare qua giustamente. Allora il mio viaggio, poi cambierò un po' quello che avevo pensato perché devo anche tenere conto delle cose state dette da chi mi ha preceduto e quindi dovrò non dire alcune cose e cercherò di dirne altre, quindi un po' improvviso. Però volevo partire da questo viaggio fatto di cinque parole. Io ho detto, boh, è un festival di parole. Allora, secondo me provo a raccontarvi quello che noi abbiamo pensato e che stiamo cercando di fare in termini di sostenibilità con questa passeggiata. Quindi partiremo da intenzionalità, consapevolezza, responsabilità, misurabilità e cambiamento. Sono fortunato perché alcune di queste parole sono state dette e quindi proverò a dirvi come noi abbiamo cercato di dare concretezza, sostanza a questi concetti. Allora, però, se voi oggi, qualcuno non ha preso le domande, ma se mi aveste detto, ma vabbè Francesco, parti con cinque domande e con cinque parole, ma ne hai una che riassume un po' tutto? Allora mi sono messo a pensare, è sicuro un lavoro inedito, ho detto, boh, una parola sola che non ce l'avevo. Allora ho fatto uno sforzo di fantasia e ho pensato di inventarne una, così che vi lascio oggi, che vi regalo. E la parola che ho inventato, spero, magari qualcuno l'ha inventata prima di me, non l'avevo trovata su Google in realtà, è sostenibilità. Cioè ho cambiato una vocale, compro una vocale, la I, e l'ho sottotituita con la A. Perché quando mi hanno presentato, io ho fatto tanti lavori, ho lavorato tanti anni in generale, solo dal gennaio di quest'anno sono passato al gruppo, al team che si occupa di sostenibilità e mi sono trovato subito con un grossissimo problema, cioè imparare cose nuove. Io non avevo mai fatto questo, ero affascinato per il mio percorso personale, per il mio interesse, per la mia cultura, per la mia sensibilità. Mi interessava capire come poter aiutare la mia azienda a fare un percorso che risponda a tutte quelle domande che prima Alessandro vi ha posto nella sua presentazione. E mi sono reso conto che in realtà mi mancavano delle competenze, mi mancano delle capacità, mi mancano delle abilità, perché la sfida che abbiamo, e credo che sia stato detto abbastanza chiaramente da chi mi ha preceduto, è una sfida molto complicata. Cioè non ce la caviamo con delle scorciatoie, non ce la caviamo con delle soluzioni facili, perché abbiamo problemi nuovi che non avevamo mai dovuto affrontare prima, oppure abbiamo problemi che da sempre l'umanità ha, ma sono talmente grandi e complessi che dobbiamo davvero imparare un modo nuovo di fare le cose. Quindi nuove abilità che possono darci la possibilità di rispondere a tutte quelle sfide che abbiamo. Vi faccio un esempio molto semplice di una cosa che affronto quotidianamente. Ci sono due paroline che vengono spesso usate quando si parla di contrasto e cambiamenti climatici, credo sia un tema che vi sta un po' a cuore e che conoscete, è adattamento e mitigazione. Avete mai sentito questi concetti? Quindi di fronte ad esempio a tragedie ambientali devi fare tutte le attività che servono per mitigare i rischi e adattarti a quelle condizioni. Dirlo è facile, pensarlo come un'assicurazione, come un'assicurazione generali possa fare dei prodotti, dei servizi, mettere a disposizione dei propri clienti delle cose che aiutano a fare questa cosa, è estremamente complesso. Giusto due parole, vado molto veloce, su chi è Generali, che è l'azienda per la quale lavoro. Quindi oggi in Italia, fondata nel 1831, siamo presenti in più di 50 paesi, una grandissima multinazionale. In Italia abbiamo un po' di brand, quindi c'è Generali, Cattolica, Alleanza, quindi li ho messi qui. Abbiamo anche delle società di servizi, Wellion si occupa di welfare aziendale, Genio si occupa dell'IoT, la tecnologia e abbiamo anche una vasta gamma di prodotti legati al settore agroalimentare attraverso Leone Alato, General Agricola, quindi facciamo vino, pasta, insomma ci sono legate anche il business alimentare legato alla nostra realtà da molti anni. Siamo abbastanza grossi in Italia, 11 milioni di clienti, 15 milioni di dipendenti, non so quanti di voi sono assicurati con Generali, ma probabilmente qualcuno di vostri genitori, l'auto, ce la va, insomma ci siamo, insomma siamo parte integrante del tessuto economico e sociale del nostro paese. Torno quindi a questa passeggiata nelle parole. Allora, intenzionalità, cioè la sostenibilità è una scelta. Allora, quando prima già due interventi hanno detto la definizione di sostenibilità, quindi utilizzare le risorse per soddisfare i nostri bisogni senza incidere sulla possibilità che chi verrà dopo di noi possa soddisfare i propri. Allora, questa roba qua, che è una definizione certamente bella, completa, articolata, probabilmente frutto anche di anni di pensiero e di studio, però richiede che le aziende che vogliono rispondere a questa sfida facciano delle cose, cioè non è esattamente scontato, serve un approccio davvero sistemico, organico, serve una visione, cioè serve esattamente una intenzione di farlo. No, non capita, cioè non è che tu diventi sostenibile perché capita, cioè deve esserci un percorso che ti porta a questa cosa qua. Giusto per darvi due parole, non per incensare generali, ma devo raccontarvi quello che abbiamo fatto e cercare di essere concreto. È un percorso che nel nostro caso è iniziato abbastanza tempo fa, cioè questa intenzione, tra l'altro, torno sul discorso delle parole, a me piacciono molto le parole, piace leggere, piace nei libri, intenzionalità al suo interno contiene la parola attenzione, ok? Quindi c'è una grandissima consapevolezza che questa roba qua è una strada lunga, cioè è un percorso dove siamo inseriti e dove stiamo cercando di camminare. È iniziato quasi vent'anni fa, nella maniera esplicita, nell'esplicitazione della consapevolezza di questa cosa, quando è stato creato il primo ufficio che si chiamava Corporate Social Responsibility. Quindi l'idea che la nostra azienda dovesse adottarsi di un ufficio che cercava di immaginare quelli che erano gli impatti, quindi la responsabilità che noi come azienda avevamo nei confronti ad esempio della società. Quindi da lì in poi è stato tutto un percorso che tappa dopo tappa ci ha portato con prendersi degli impegni, gli impegni di fare bene gli investimenti, gli impegni di scrivere i nostri bilanci di sostenibilità, poi dirò anche una parola su questo, visto che è venuto fuori l'argomento di costruire prodotti sostenibili. Il punto più alto di questo percorso fino ad oggi è stato l'anno scorso, quando nell'ultimo piano strategico le aziende funzionano così, fanno dei piani strategici, generalmente triennali, dicono i prossimi tre anni mi impegno a fare questi risultati, queste cose. Nell'ultimo piano strategico la sostenibilità non è stato più, e questo è il grande scatto, non è stato più uno degli N elementi che ci impegniamo a fare, facciamo i prodotti, facciamo il business, facciamo questo, facciamo quello, mettiamo le case, abbiamo la genera agricola e abbiamo anche la sostenibilità. La sostenibilità è diventata, lo dicono in inglese nei documenti, il genera originator, cioè è un elemento che sta a monte di tutto questo, la strategia, il nostro piano strategico è conseguente del fatto che l'impegno sulla sostenibilità è un elemento che sta a monte, di cui come dire tutto si deve in qualche modo irrorare. Intenzionalità, seconda parola che così mi piaceva in questo percorso, è la parola consapevolezza. Qui faccio un passo storicamente indietro rispetto al 1987 e vado al 1972. se non sbaglio, se non ricordo male l'anno, quando il Massachusetts Institute of Technology, il famoso MIT, fa uno studio, produce un libretto, l'avete già sentito? Come si chiama quello studio? O di cosa parla? Allora, non l'avete sentito? Allora, in quello studio si pongono una domanda che è cruciale, che detta oggi può sembrare abbastanza banale scontata, però 50 anni fa già suonava un po' più interessante. Dicevano, ma si può immaginare uno sviluppo infinito in un mondo che ha risorse finite? La risposta è? Sì o no? Sietevi d'accordo? Cioè, si può immaginare uno sviluppo infinito in un mondo che ha risorse finite? Come? Con risorse rinnovabili, sì. Allora, diciamo che il focus di quel report era proprio il concetto di limite, no? Di mettere al centro della riflessione il fatto che effettivamente è difficile pensare, cioè se le risorse sono finite, poi se sono rinnovabili vuol dire che non sono finite, ok? Perché si rinnovano e quindi sono infinite anche le risorse, ma in un mondo finito. Avete mai sentito parlare del Overshoot Day? Sì o no? Boh, ok. Quindi nel 72 ho detto, beh, qua se noi ci guardiamo un po' avanti, loro avevano messo un po' la linea del tempo al 2050, metà del XXI secolo, qua o collassiamo, o finisce tutto, finiscono le risorse, oppure l'alternativa è trovare un modo per coniugare la nostra bisogno, o vero indotto che sia, di continuare a sviluppare a crescere, a produrre, eccetera, con il fatto che le risorse sono finite. Quindi questa cosa qua richiede una grande consapevolezza. Allora come abbiamo provato noi a studiare, prima vi dicevo che ci servono nuove abilità, allora abbiamo fatto un esercizio abbastanza semplice, davvero questa serie qua è presa da presentazioni ufficiali della nostra azienda, ci siamo andati a guardare tutte le grandi sfide che l'umanità e le aziende che sono parte diciamo di questa umanità dovranno affrontare in questi anni, ma voi li avete sicuramente molto più presenti di me, ci sono i cambiamenti climatici, c'è l'inquinamento, le nuove povertà, il gap che c'è tra uomini e donne ancora oggi purtroppo nelle aziende rispetto ad esempio alla questione economica, innalzamento dei livelli di mare, vengo da Venezia quindi lo vedo tutti i giorni insomma il problema, lo tocco a comando, la perita di diversità, la scarsa educazione finanziaria, cioè è un mondo davvero complesso dove le sfide, non so se avete mai fatto quel giochino, quando ero bambina avevo il gioco della talpa che veniva fuori dovevi martellarla, coprivi una e veniva fuori in un'altra parte, cioè tu davvero non sai poi da che parte concentrare gli sforzi e destinare le risorse, però la consapevolezza della complessità e delle sfide che abbiamo davanti è un passaggio fondamentale per poter poi decidere cosa fare e il passo successivo anche questo, lo slide che ho voluto riciclare e utilizzare per voi perché questa è quella che si chiama la matrice di materialità, cioè abbiamo ragionato se quello è il contesto, se quello sono le sfide, cosa sono le cose che contano, la parola materialità in questo caso sta per questo, quali sono le cose importanti su cui decidiamo di impegnarci, su cui decidiamo di focalizzare la nostra attività anche di assicuratori. Quindi da tema parte si fa il solito giro, anche qua parole che non so se avete sentito, gli stakeholders e tutti quelli che hanno un interesse rispetto a quello che l'azienda sta facendo, producendo o sviluppando, quindi sono messi a cerchi concentrici perché appunto la parte più interna mette in luce quelle che sono le priorità, per noi ad esempio abbiamo valutato che è stata fatta nel 2020, ogni tot anni adesso la stiamo rinnovando, ci stava dentro la pandemia ovviamente, era talmente forte quella problematica, talmente sulla nostra pelle, sulle nostre vite che non poteva essere fuori dal radar e poi c'è cambiamenti climatici e un'altra cosa che per noi è fondamentale, per noi assicuratori, che è quella della sfida demografica, viviamo in un paese, lo sapete probabilmente anche voi, dove la quota di persone anziane, diciamo così e sta diventando sempre più forte e alta rispetto alla popolazione giovanile e questo pone grandissimi problemi rispetto alla sostenibilità economica in questo caso ad esempio del sistema pensionistico, del sistema sanitario eccetera. Quindi, intenzionalità, ok ci interessa, ci impegniamo, ci strutturiamo per affrontare questa cosa, consapevolezza, cerchiamo di capire dove siamo e capire cosa possiamo fare, dove vogliamo muoverci, quali sono le nostre priorità, facciamo un altro piccolo passaggio, terza parolina con cui volevo fare questa camminata con voi, ed è la parola responsabilità. Cioè la sostenibilità a questo punto diventa una questione di responsabilità, anche per rispondere a quello che diceva Alessandro prima, rispetto Loghi o Bre. Quindi sentiamo e dobbiamo sentire la responsabilità, cioè se quello è il contesto, quelle sono le sfide, noi abbiamo una responsabilità come impresa, abbiamo una responsabilità che ci obbliga a, almeno secondo me e secondo noi, ci obbliga ad agire. Allora, come abbiamo pensato che possiamo essere responsabili? Allora, quattro ambiti, che chiaramente questi sono quelli che sono legati al nostro modo di fare impresa e al nostro tipo di business, quindi cerchiamo, insomma abbiamo scelto di impegnarci sul versante dell'investitore responsabile. L'assicurazione funziona così per la parte finanziaria, economica, la parte sicurazione di vita, le persone ci danno dei soldi e noi quei soldi li investiamo, li facciamo fruttare, ok? Quindi il modo in cui noi utilizziamo quei soldi per farli fruttare deve essere responsabile, quindi deve essere sotteso che ci sono dei criteri di scelta che noi utilizziamo per decidere dove mettere quei soldi. Quindi se devo metterli a qualche parte, privilegio, no, scelgo di investire tenendo conto di potenziali investimenti negli ambiti in cui l'attenzione agli elementi sociali ambientali e di governance siano più forti, più evidentemente dimostrati o dimostrabili. Poi come assicuratori noi facciamo prodotti e servizi, quindi vendiamo polizze sostanzialmente e quello che stiamo cercando di fare è inserire dentro queste polizze degli elementi che rendono più sostenibile socialmente e ambientalmente quel nostro prodotto. Poi magari vi faccio qualche esempio. Terzo ambito è quello del datore di lavoro responsabile, cioè siamo un'azienda, vi ho detto prima, abbiamo in Italia ad esempio 14.000 dipendenti, nei confronti di tutte le nostre persone scegliamo di avere un atteggiamento che è coerente con l'idea di società e di mondo che ci aspettiamo possa avvenire e a questo noi ci ispiriamo. E infine come cittadino responsabile, questo è interessante perché le nostre sedie, ad esempio abbiamo una sede, la mia principale sede di lavoro sta qui a Marocco, cioè tra Mestre e Treviso, però abbiamo sedie a Trieste, a Roma, a Napoli, a Milano, a Torino, a Verona eccetera e siamo necessariamente con 14.000 persone dentro quei territori, cioè le famiglie che abitano nell'intorno, cioè se andate qui in zona Emogliano un sacco di persone lavorano alle generali, quindi c'è un legame profondo che lega quell'edificio, le persone che lo abitano al territorio in cui noi ci troviamo. Per cui c'è la necessità, la voglia, il desiderio di collaborare, cooperare, di essere utili anche nei territori, nelle comunità in cui noi operiamo. Lo facciamo in molti modi, ad esempio abbiamo una fondazione, si chiama di Human Safety Net, che si occupa di progetti specifici legati ad esempio alle vulnerabilità, ai migranti, alle opportunità che possiamo dare al nostro territorio, quindi c'è il desiderio di restituire alle comunità un po' del valore che noi riusciamo a creare. Volevo soltanto farvi un esempio specifico sul datore di lavoro, perché mi sembrava interessante. Avete mai visto quelle righette verticali che ci sono sulla chart lì a sinistra? Mai viste? Sì? Cosa sono? Come boh, hai detto sì? Ah, le hai viste ma non sai cosa sono, giustamente. Non è Netflix, no? Cercatelo sul telefonino, googolate, si chiamano i Warming Stripes, ok? Un'idea di un accademico britannico che ha rappresentato nelle queste righe verticali la temperatura del pianeta dal 1840 ad oggi, quindi ogni riga verticale rappresenta la temperatura e più è blu più era freddo in media nell'anno e più è rosso più è caldo. Quindi a colpo d'occhio, anche se l'ho messa in piccola perché vi invito ad andare a cercare, tra l'altro si possono vedere per continente, insomma si può fare un po' di giochini, e si vede a colpo d'occhio che soprattutto nell'ultimo ventennio, negli ultimi anni, le barrette rosse sono molto più frequenti e più intense rispetto al secolo e mezzo passato. Ma perché vi ho messo quello? Perché quella screenshot che ho messo alla sinistra in realtà è presa anche questo da, noi ovviamente tutte le aziende hanno sistemi di comunicazione interna, non so anche voi avete sistemi di comunicazione interna a scuola, avete spaggiari, non so che usate, girano le cose, anche noi abbiamo la nostra intranet e divulghiamo informazioni, cioè creiamo conoscenza, cerchiamo di stimolare la riflessione delle persone. Quindi quello è il titolo dell'ultima newsletter che abbiamo mandato, non bruciamoci il futuro. Quindi a 14.000 persone abbiamo detto, ragazzi guardate che la situazione è questa, cioè dobbiamo prenderne atto, quindi pensiamo, pensiamo, pensate, pensiamoci insieme, e quindi è un modo all'interno come azienda, come datore di lavoro, di sensibilizzare le persone. Però poi non basta, adesso pensiero e azione era il titolo nella rivista di Mazzini, visto che voi siete ancora a scuola dove state studiando la storia forse anche del secolo scorso, pensiero, cioè pensiamo alle cose, poi però al pensiero deve seguire qualcosa, deve seguire un impegno, un'azione, sennò il pensiero resta un po' sterile, no? Quindi il pensiero crea le condizioni, no, feconda il terreno e poi bisogna far nascere qualcosa. Un esempio, ci siamo dati un obiettivo che è quello di ridurre le nostre emissioni, la nostra carbon footprint, come si dice, quindi del nostro lavoro, quindi delle nostre sedi, del nostro modo di agire, carta, le auto che usiamo per spostarci, per motivi di lavoro, le emissioni dei nostri palazzi, eccetera. Le abbiamo misurate nel 2019, era quella barretta là, tante tonnellate di CO2, con il Covid si è ridotto ovviamente perché non si viaggiava più, le sedi erano chiuse, ma il nostro impegno è che nel 2025 torneremo a lavorare, però con una riduzione rispetto al 2019 del 35%. È un impegno, è abbastanza realizzabile, sì, lo monitoriamo ogni giorno, ci crea anche un po' di ansia perché l'abbiamo anche annunciato pubblicamente, però è un impegno che abbiamo preso tutti, quindi ciascuno di noi cerca, e l'azienda nel suo insieme, di raggiungere questo obiettivo. Quindi, meno 35% delle nostre emissioni di CO2. Voi sapete quante sono le vostre emissioni di CO2 al tempo della vostra vita? Avete una misura? Ad esempio, vi racconto questa cosa, è un fuori programma. Sono entrato in questo team di sostenibilità il primo gennaio del 2023. Come vi dicevo prima, sostenibilità, comincio a studiare un po' di cose, c'è un sito delle Nazioni Unite dove tu metti dentro un po' di dati, nella macchina che hai, quanti chilometri fai, quante volte mangi carne, quante volte ti fai la dolce, insomma, un po' di cosettine che ti fanno anche fare un po' di esami di coscienza, si sarebbe detto una volta, su quella che è il tuo stile di vita, e ti dice, come? Ti dice, guarda la tua impronta, quanti sono le tue tonnellate di CO2 all'anno? Non ti ricordi. Vabbè, io ho fatto sto conto, vi sono su cinque circa, insomma, per la mia vita, e sono anche abbastanza attento, 5.000 tonnellate all'anno di CO2 che produco. Cosa faccio? Sono andato su un sito di alberi, ho comprato alberi per compensare la mia impronta, non riesco a ridurla più di tanto perché alcune cose le devo fare, però ho cercato, quindi potete farlo anche voi, provate a cercare, poi dite, mamma, papà, compriamo gli alberi. Quarto e penultimo passaggio, perché qua stiamo andando per le lunghe, l'hanno detto prima in molti, cioè se non lo misuri, c'è una frase molto bella di Kelvin, quello di gradi Kelvin, dello zero assoluto, che diceva che se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare, se non lo puoi misurare, non lo puoi gestire, quindi è fondamentale, noi tra l'altro siamo un'azienda che ha basato sui numeri, la statistica, la testicatoriale, tutta la sua storia, quindi noi misuriamo qualunque cosa, e quindi abbiamo fatto un lavoro profondo di analisi in cui abbiamo mappato tutti quelli che sono i nostri processi, quelle che sono le nostre attività, e che c'entrano e che hanno un diretto o indiretto impatto sulla sostenibilità, abbiamo definito degli obiettivi, quello che vi ho detto prima, ad esempio noi abbiamo tutte queste persone in queste sedi, produciamo CO2, questo è una cosa oggettivamente misurabile e reale, ci siamo dati un obiettivo, vogliamo ridurla delle, e abbiamo messo degli indicatori di monitoraggio, abbiamo anche esagerato a un certo punto, sono diventati tanti, alla fine bisogna sempre stare attenti che se diventano troppi è come non avere neanche uno, quindi bisogna decidere quelli che sono quelli più importanti, e avere una, quello che si chiama impact strategy, cioè voglio avere una strategia che misura gli impatti che io riesco a generare nell'ambiente e nella società. chiudo questa passeggiata, quindi le parole erano? La prima? No, le cinque parole, la prima? E che cavolo? Intenzionalità? Ok, devo volerlo, vale anche per voi, vale per noi come azienda, ma credo che si possa applicare tranquillamente alla vita di ciascuna, quindi devo volerla una roba, se no non accade, ok? Devo averne consapevolezza, cioè sapere di cosa sto parlando, devo sentire su di me la responsabilità di quella cosa, perché se no non succede niente, devo misurarla, mi do degli obiettivi, vado a scuola in bicicletta tutti i giorni e non prendo più la macchina o il motorino, e ovviamente questa cosa qua richiede un cambiamento dei nostri comportamenti inevitabilmente, cioè richiede un cambiamento, allora può darsi, questo lo dico più anche per voi, può darsi che voi non abbiate nessuna colpa del mondo che vi trovate, cioè l'avete ereditato purtroppo da chi prima di voi non è riuscito a fare quello che 50 anni fa si era intuita come un percorso fondamentale, abbiamo perso un po' di tempo probabilmente, un po' di anni sprecati, di questo dovremmo chiedere scusa, la nostra generazione dovrebbe chiedervi scusa, ma se non siete responsabili comunque lo diventerete se non fate nulla per cambiare, diceva Martin Luther King. Questo è un altro esempio, lo faccio per essere molto concreto, questa è una mail che è arrivata a tutti i dipendenti, proprio tu, tutti i dipendenti, per dire ragazzi miei, cari colleghi, cosa potete fare nella vita di tutti i giorni, all'interno di questa azienda? Beh, ponetevi queste domande, cioè ponetevi le domande e cercate, qualunque momento dovete fare delle scelte, prendere decisioni, di chiedervi quali impatto avrebbe questa mia decisione, quali trend ESG, no, sta environment, social e governance, lo sapete, insomma, meglio di me governance, che orizzonte temporale ha, che stiamo innovando qualcosa, stiamo avendo degli effetti sulla reputazione, ecco un altro degli elementi che veniva citato prima. Quindi porsi le domande giuste è una cosa fondamentale, quindi cercare di dare anche delle risposte diverse, con quelle nuove abilità, con quelle nuove capacità, che a volte richiedono anche sforzi di fantasia, di ingegno, di capacità di immaginare qualcosa che non c'era. E quindi cambiamento, cambiamento non c'è, scorciatoia anche qui parte da ciascuno di noi. Se abbiamo fatto quel percorso, chi ci ha portato questa ultima parola, vorrei chiudere con un pensiero, lo pensavo stamattina mentre venivo in treno da Venezia, c'è un grandissimo, per me insomma una persona che ho amato molto per quello che esprimeva e quello che diceva, Alex Langer, che nel fine anni 80, inizio anni 90, diceva che la transizione ecologica sarà possibile solo se la rendiamo socialmente desiderabile. Cioè lui aveva capito che se, faccio un esempio, voi siete tutti giovani, se c'è più gente, troppa gente, che va il sabato, io sono di Venezia, quindi alla nave De Vero fuori dai negozi di fast fashion, vuol dire che abbiamo ancora perso la nostra battaglia, dobbiamo fare in modo che lo desideriamo questa cosa, che socialmente sia molto più bello adottare pratiche e comportamenti responsabili e sostenibili rispetto pratiche che possono essere, giustamente le bottiglie di plastica, qualche anno fa i tavoli dei reattori hanno pieni di bottiglie di plastica, evidentemente ormai non ce l'aspettiamo neanche più, quindi è meglio, è più bello, ci sentiamo meglio anche con i stessi se non abbiamo le bottiglie di plastica, quindi lo sforzo che dobbiamo fare è quello di rendere tutto questo come una prospettiva che sia anche affascinante, vincente, su cui tutti ci vogliamo impegnare. Grazie mille.